Grazie, Signor Presidente, Governo, Onorevoli Colleti. La nota di aggiornamento del documento di economia e di finanze 2021 non può non tenere conto che la situazione economica e sanitaria è nettamente migliorata negli ultimi mesi. Tutto ciò è innegabile e è avvenuto con il concorso di diversi fattori che hanno influito più che positivamente sul percorso di ripresa globale del nostro Paese. Le misure di sostegno economico alle attività in crisi, il progredire della campagna vaccinale con il coinvolgimento della fascia di età adolescenziale dei giovani ha permesso di far fronte alla quarta ondata e alla diffusione della variante Delta, molto più contagiosa. L'obiettivo di vaccinare l'80% della popolazione sopra i 12 anni sta per essere raggiunto. Nel programma del prossimo triennio 2022-2024 è previsto di rinnovo di variate misure di rilievo economico e sociale, come ad esempio quelle relative al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e gli incentivi per l'efficientamento energetico degli edifici, misura quest'ultima voluta fortemente dal Movimento 5 Stelle. Più in particolare, inoltre, grande valenza avranno quelle relative al nostro sistema sanitario, al suo funzionamento, al miglioramento dei servizi erogati, sia in termini qualitativi che quantitativi, ai criteri direttivi per il riordino degli istituti di ricovero e cure a carattere scientifico di diritto pubblico e, ad esempio, ad una più attenta programmazione ed una più capillare rete organizzativa sul territorio, con il conseguente potenziamento della medicina territoriale, vero spartiacque per ottenere un innalzamento dei servizi erogati ed una riduzione dei carichi di lavoro delle strutture ospedaliere. Si tratta di un progetto ambizioso, alla cui realizzazione devono concorrere un'adeguata disponibilità di risorse economiche, messe queste ultime a disposizione dai fondi europei ricevuti con i PNR ed ottenuti dall'Europa grazie al Governo Conte II, ma anche il corretto coordinamento tra la cabina di regia centrale e le singole strutture regionali. Solo un'appiattiva e fattiva collaborazione tra Governo, Ministeri e Regioni, che tante volte è venuta meno durante la fase acuta della pandemia o se è scarsamente realizzata, per veti incrociati o anche per scelte politiche periferiche diverse, consentirà di innalzare, di iniziare un percorso nuovo e a raggiungere obiettivi e risultati non altrimenti realizzabili. Non dobbiamo mai dimenticare le 130.000 vittime della pandemia da Covid-19, le 4 milioni e mezzo nel mondo, gli oltre 225 milioni di contagi. La scelta dell'estensione dell'obbligo del permesso sanitario a tutte le categorie di lavoratori pubblici e privati a partire dal prossimo 15 ottobre va, secondo me, nella giusta direzione di stimolare e di incrementare la pratica vaccinale, da un lato, anche verso le fasce più reticenti, ma dall'altro sottolineo soprattutto la necessità di una sempre più attenta e costante sorveglianza epidemiologica, al fine di ridurre i contagi e la diffusione di eventuali varianti del virus e per sconviggere finalmente la pandemia. Saremo protetti quando tutti saranno protetti. A tal fine, anche l'avvio delle terze dosi di richiamo ai soggetti più fragili prima dell'inizio dell'inverno ed una più estesa e diffusa campagna vaccinale per l'influenza stagionale, consentirà di abbattere i rischi di nuove ondate epidemiche, con sovraccarico delle strutture sanitarie ospedaliere. Tutto ciò ha un costo economico, ma tale iniziale incremento di spesa sanitaria per il 2020, ciò a seguito delle misure introdotte per dare immediate risposte all'emergenza da Covid-19, nel 2021 sarà seguito da una prevista lieve discesa della stessa spesa sanitaria, pari al 7,3% del PIL, fino a ritornare per il 2024 al 6,1% del PIL. Tutto ciò è legato sostanzialmente all'aumento generale del PIL. Nel prossimo biennio si prevederà un calo del 2,3% della spesa sanitaria per i minori oneri legati all'emergenza pandemica. Concludo, Signor Presidente, al di là delle cifre e dei numeri pure importanti, ciò che interessa ai cittadini e quindi al Movimento 5 Stelle è constatare e toccare con mano ogni giorno che le risorse siano investite ed impegnate nel modo migliore, sia in termini di servizi, sia di attenzione alle criticità, alle fragilità e alle disabilità. Tutto ciò occorre farlo ora o nel prossimo futuro. Grazie, Presidente.